Una donna su tre tra i 16 e i 70 anni in Italia subisce una violenza. Nel nostro paese ogni anno muoiono circa 100 donne vittime del compagno, del marito, dell'ex. Il 20 aprile anche il calcio WISP ha voluto dire no alla violenza sulle donne con la prima iniziativa in sostegno della campagna Noi No, la community di uomini che dicono pubblicamente no alla violenza. Gli uomini sono gli attori della violenza di genere purtroppo, ma fino adesso erano stati abbastanza assenti dalle prese di posizioni pubbliche e dalle campagne di comunicazione. Per noi è molto importante dare la voce agli uomini per dire no alla violenza sulle donne prima di tutto perché nessuno può probabilmente coinvolgere un uomo, fargli arrivare informazioni, sensibilizzarlo come un altro uomo senza farlo sentire necessariamente accusato. Ma è importante che tutti noi prendiamo coscienza di un problema che ci riguarda tutti, anche chi non ha mai alzato una mano contro la propria compagna. Troppo spesso il mondo dello sport si rende protagonista di episodi di sessismo, omofobia, razzismo. Il calcio è spesso visto come un mondo macio e intollerante. WISP e la squadra Exunt Leones, football antirazzista, credono invece che i fondamenti profondi dello sport siano rispetto dell'avversario e inclusione di tutti e tutte. Sembrava un'ottima opportunità proprio noi nel calcio, quindi un mondo molto maschile che tante volte è macista. Sembrava veramente opportuno e anche significativo per noi come crescita nostra aderire a questa campagna e provare a mettere un po' in campo l'iniziativa odierna. Poi per fortuna abbiamo avuto il supporto e la condivisione con la WISP, eravamo sicuri, però è stata una gran bella dimostrazione anche di cooperazione tra noi e la WISP questa giornata. Questa è stata solo la prima di una serie di iniziative che ha visto WISP e Exunt Leones impegnate al fianco di Noino.org. Domenica 28 aprile ai Giardini Margherita, nell'ambito di Aspettando Strabologna e soprattutto il 19 maggio a Strabologna, Exunt Leones correrà nel gruppo Noino.org insieme a tutti gli uomini della community che si iscriveranno. Una partita contro la violenza, l'indifferenza e i pregiudizi in cui ognuno è chiamato a giocare un ruolo importante.